Ricordare Alcide De Gasperi vuol dire salvaguardare l'Italia, l'Europa, la Repubblica, la patria, la libertà. A lui si deve la fede europea, la collocazione atlantica e occidentale del nostro paese, lo sviluppo economico che poi portò al boom e tutte quelle scelte che ancora oggi rappresentano non solo la storia della nostra patria ma anche il futuro di essa. Ecco perché al settantesimo della sua scomparsa salvaguardare i suoi ideali e la sua memoria significa salvaguardare anche la nostra Repubblica.